Spinti da questa passione siamo venuti a farci un giro dai. La partenza da Piazza Duomo ha treviso l'arrivo a Follina per conoscere da vicino i suoi tesori, protagonisti gli equipaggi delle auto d'epoca che hanno preso parte alla prima edizione di Ruote nella Storia, il raduno promosso dall'ACI. Con le auto andare a visitare questi bei borghi è una soluzione fantastica, anche perché abbiamo organizzato il tutto con il club Agi Storico, con il club e con l'associazione I Borghi Più Belli d'Italia, quindi Agi Treviso si è fatto promotore di questa iniziativa che serve a scoprire non solo il territorio ma anche a cercare di far conoscere ai nostri appassionati anche dei percorsi molto belli. È un'iniziativa che è nata da 3-4 anni e che sta crescendo di anno in anno sempre di più. Qui abbiamo poi consentito agli equipaggi di avere a disposizione una guida e la guida spiega tutto e quindi c'è il piacere di guidare una bella auto storica ma vedere delle località storiche e dei borghi medievali più belli d'Italia. È un borgo straordinario, piccolo, ancora fortemente conservato nella sua immagine che è stata appunto lasciata dalla matrice monastica sicuramente ma che si è allargata poi all'aspetto produttivo lasciando però un'architettura conservata in modo straordinario. La manifestazione che ha ottenuto un ottimo successo di partecipanti puntava ad abbinare la passione per le auto storiche con quella per il territorio, i suoi paesaggi, il patrimonio storico-culturale e l'enogastronomia. Nell'alta marca come nel resto della provincia si sta cercando di promuovere il ritorno dei visitatori dopo la fase acuta della pandemia. Siamo molto entusiasti dopo i periodi difficilissimi del Covid dei turisti che stanno scegliendo di visitare i nostri borghi e riscoprire la bellezza di questi piccoli paesi che hanno un fascino straordinario.